Io ho un amico che mi piace perché lui, cosa vuol dire essere rock? C'era una volta che Adriano Celentano si è rinventato, c'è rock, questo è rock e questo è lento. Ecco, essere rock significa rimanere sempre attenti, andare un po' fuori dalle righe, dire quello che si pensa e non far parte né di chi vuole gestire pecore né di essere una pecora. Credo che Claudio Trotta sia questo, sei questo Claudio? Beh, non lo so, mi hai descritto tu, quindi se l'hai descritto tu vuol dire che è vero. No, ma mi piace perché quando c'è qualcosa che non va, chi è che protesta? Claudio Trotta, gli altri, gli altri promote, tutti zitti, lui c'è sempre. Dico bene Claudio? Sì, no, in effetti è divertente perché proprio oggi ho fatto un'intervista con il mio amico Andrea Cegna che saluto nel caso sia in ascolto che è a Radio Onda d'Urto, tra l'altro Radio Onda d'Urto di Bologna, tra l'altro Andrea Cegna è una specie di mito a Milano perché è un uomo che fa mille cose e che lavora nella musica sia in produzione che come radio e lui mi ha quando mi ha intervistato sul tema di cui credo che parleremo questa sera e lui a un certo punto all'inizio mi ha presentato e poi ha detto certo in realtà dovremmo presentarlo come agitatore sociale perché questo è forse il modo in cui è più da presentare, non lo so, sembra quasi che lo faccia apposta, ma in realtà è semplicemente che bisogna restare lucidi e se si resta lucidi, si resta onesti con se stesso e se si resta onesti con se stessi si riesce a capire forse, forse dico forse, che ci sono tante cose che si potrebbe fare in modo che vadano meglio di come vadano, adesso poi l'ho fatta molto semplice, molto banale, però cercherò di esagerare. Allora Claudio è uno che diciamo con la sua Barley Arts, un'azienda che c'è da tanti anni, la prima volta che lo conomi organizzava i Monsters of Rock quindi c'era proprio tutti quelli più scatenati sul palco, era un ragazzino, ha sempre mantenuto la passione per la musica tant'è vero che Bruce Springsteen è rimasto legato a lui, sta parlando con altri artisti però adesso non svegliamo niente che ne sono andato alla presentazione del libro del suo amico Little Steven eccetera, ha degli artisti italiani, si sobbarca agli artisti italiani più facili con cui è più facile lavorare, tipo Morgan, tipo Grignani, tipo tutti questi, c'ha Matthew Lee, c'ha i Love Seek Duo diciamo di italiani, c'ha un roster incredibile, però ultimamente diciamo in questi due giorni è arrivata a tutta pagina su Giornale eccetera, la sua protesta perché non vuole che venga smantellato lo stadio Meazza di Milano a parte Claudio che hai perfettamente ragione perché quando io ho letto che volevano distruggere il Meazza per fare un nuovo stadio ho detto ma qui questa è pura follia, dico bene? Posso leggere una cosa che ho pubblicato oggi che ha scritto un mio amico, si chiama Alfredo Pasini è un amante della buona musica ed è un dottore, un bravissimo dottore, lui mi ha scritto questo Claudio, come si fa solo a pensarlo? Si diceva fosse la scala del calcio, sarebbe come abbattere la scala che fu la prima a essere ricostruita dai milanesi dopo la guerra, magari va ridimensionato e ripensato ma demolirlo proprio no. San Siro è San Siro, Meazza non sono mai riuscito a dirlo, è un luogo dell'anima di Milano, è uno dei manufatti di Milano più famosi come il Pirellone, la Torre Valasca e poi non solo calcio, la box degli anni 60, i grandi concerti, sarebbe una cattiveria per Milano come la copertura dei navigli, insomma finché vivo Milano senza San Siro non riesco neppure a immaginarla. Questo lo ha scritto un'altra persona, io l'ho sposato completamente perché penso che sia un tema importante, peraltro non sono il primo e non sarò neanche l'ultimo a parlare di San Siro non solo come cemento ma come anima, come memoria. C'è un libro bellissimo di Max Bingoya che ha scritto raccontando tutti i concerti di San Siro uno per uno, dal primo con Bob Marley nel 1980 dove c'ero io, forse c'eri anche tu, c'era il grande Franco Mamone organizzarlo, c'erano 60, 80 mila persone, chissà quanti eravamo, che con la luna piena intorno a quando sono partite le note di No Woman No Cry, tutti l'abbiamo cantata. Detto questo, il tema non è un tema che è nato in questi giorni, è un tema che va avanti ormai da qualche anno, la mia prima lettera aperta al sindaco Sala sul tema di San Siro è del 2019, è una lettera pubblica, è intracciabile, non è una cosa privata e la feci quando le due squadre presentarono dei progetti, una parte dei progetti perché non erano completamente conosciuti e commentai questi progetti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logistico che dal punto di vista di utilizzo, commentai il fatto che in tutti e due i progetti la parola musica era usata ben poco e che quindi forse si dimenticasse che è lo stadio dove Vasco Rossi ha fatto 27 concerti, qualcosa di questo genere, adesso non me lo ricordo, Liga Buona ha fatto i dodici, Springsteen ha fatti sette, ci sono passati quasi otto milioni di persone a vedere concerti e queste persone hanno un peso, hanno un significato, la musica deve avere un significato, dopodiché non solo dal 2019 il tema è andato avanti, poi ovviamente siamo in pieno covid, è un pochettino, si sono assopite le conversazioni, ma appena dopo le elezioni il sindaco Sala, nonostante, mi dispiace dirlo, ma è così, nel programma elettorale non dicesse una sola parola sul tema di San Siro, appena dopo le elezioni il sindaco Sala ha dichiarato che il progetto del nuovo stadio andava avanti e che quindi lo stadio di San Siro sarà demolito. Sulla base di questo una grandissima persona, un grandissimo pezzo di questa città, di Milano, che è Luigi Corbani, che è stato vice sindaco, se solo la cultura della città di Milano, è stato il fondatore della bellissima orchestra Verdi e dello straordinario auditorium Verdi, l'Arco Maler, ha lanciato un'iniziativa per un comitato che fosse un comitato si meazza, non è un comitato contro qualcosa, ma è un comitato per qualcosa e in poche ore, in 24 ore abbiamo aderito in tanti, Sergio Scarpelli, l'ex prefetto di Milano Bruno Ferrante, Massimo Morati e tanti altri, tanti stanno aderendo. Ok, aspetta che c'è un problema di connessione, devo chiudere e ti faccio rientrare. Eccoti qua Claudio, eccoti qua, eccoti qua. Senti Claudio, torniamo a questa cosa. Volevo sapere una cosa, ma perché vogliono abbattere San Siro? Per fare uno stadio più bello, per farlo più grande, per farlo più piccolo? La politica di tutte le squadre nel mondo, le squadre di Premier League, le squadre della Liga, le squadre del nostro campionato e anche di quello tedesco, è tentativamente quella di avere uno stadio di proprietà e uno stadio di proprietà con una vocazione, ahimè, che non è più molto popolare, come dovrebbe essere, ma è soprattutto rivolta a chi? Agli abbonati e soprattutto ad avere più skybox possibili. Quindi la tendenza è avere capienze ridotte, non capienze maggiori, perché con le capienze ridotte ci sono, come nel progetto di Inter e Milan, la possibilità di avere 12 mila posti per gli skybox, gli skybox per chi non sapesse cosa sono, sono quelle, chiamiamoli come fossero dei mini appartamenti, che vengono venduti per tutto l'anno praticamente a delle aziende che hanno lì dentro una sorta di hospitality, perché hanno il bagno, hanno un cucinino, un divanetto, un televisore, delle comodità e quindi possono ospitare i propri dei VIP, possono ospitare delle persone, degli amici, delle persone dell'azienda o quello che è. Quindi la tendenza non è certamente quella di costruire uno stadio proprio perché lo stadio sia più grande e aumenti la possibilità per i tifosi alla partecipazione, ma è esattamente il contrario. E questa è una tendenza internazionale che è, come dire, legittima nella misura in cui le società gestiscono o parlano di uno spazio che è privato, lo costruiscono da zero oppure rimettono a posto un loro spazio. Ma quello che non va mai dimenticato, che è un passaggio importante e su questo oggi il sindaco ha fatto una caduta di stile notevole, quello che non va mai dimenticato è che lo stadio è di proprietà dei cittadini milanesi, peraltro anche di settimo milanese, perché la competenza lì è comune di Milano ma è anche comune di settimo milanese. Non è una proprietà privata, è attualmente in gestione, una gestione pluriannale a Inter e Milan che ne hanno pagato e ne stanno pagando oneri e hanno fatto una serie di lavori ordinarie e straordinari, ma è un bene pubblico, non è un bene privato. E anche questa ipotesi che San Siro venga demolito e venga costruito uno stadio nuovo, non è un'ipotesi dove lo stadio diventa di proprietà delle squadre. Le squadre lo hanno per 99 anni e 99 anni dopo lo restituiscono 90 anni dopo lo restituiscono a Bumore di Milano. Peraltro è abbastanza palese immaginare noi non ci saremo, Ronny, e poi non è neanche detto ci sarà ancora l'umanità se andiamo avanti così siamo a rischio estinzione, visto quello che non sono stati capaci di fare e di decidere a Glasgow, ma questo è un altro tema. È difficile immaginare che fra 90 anni e 99 anni lo stadio, qualsiasi nuovo stadio, possa essere ancora attuale con quello che succederà o se succederà e chissà cosa succederà. Ma qual è stata Claudio la caduta di stile del sindaco Sala? La caduta di stile è stata quella di commentare ironicamente il nostro comitato dicendo se vogliono tenere San Siro se lo comprino. Questa è una pessima caduta di stile perché lo ribadisco lo stadio è dei cittadini, non è né del sindaco né di Inter e Milan, è dei cittadini, è un bene pubblico e come tale andrebbe trattato. Non va persa la vocazione popolare, non va persa la vocazione interdisciplinare e qual è a mio parere il futuro che dovrebbe essere preso in considerazione e che per motivi non è stato preso in considerazione. Il futuro potrebbe essere quello di togliere il terzo anello, coprire lo stadio con una copertura portante, avere un prato di quelli retrattili. Se avete visto qualcuno di voi il bellissimo rendering dello stadio Bernabeu di Madrid, avete visto che in quello stadio si farà di tutto, il prato passerà ad essere un prato dove giocare a calcio, fare rugby, futbol americano, fare delle fiere, fare dei concerti, fare delle opere, come dovrebbe essere un uno stadio moderno. Quindi questo dovrebbe essere sistema che permetterebbe l'utilizzo per tutto l'anno, che permetterebbe assolutamente che le spese a cui Sala continua a fare riferimento si coprirebbero, perché ci sarebbero concerti, opere, musical, fiere, rugby, calcio femminile e tante altre cose per tutto l'anno, con uno stadio che dovrebbe essere sempre San Siro, rimodernato, coperto, con una copertura, ribadisco portante, perché tutti gli spettacoli, ormai lo sappiamo, hanno bisogno di avere audio e luci appesi. Non mi pare che in nessuno dei due progetti, attualmente, scelti da Inter e Milan, si parli di una copertura, né men che meno, ho visto una parola su un prato retrativo, un prato moderno. Per certi versi, questo è un commento personale ed è opinabile, mi sembrano dei progetti nati un pochettino già vecchi. C'è peraltro un progetto dell'architetto Cetti, dell'imgeniale Medestretti, che non è stato preso ancora in considerazione, non è stato ancora neanche ultimato, anche perché fare progetti di questa natura costa dei soldi e non poco, che invece va nella direzione che ho descritto io, che dovrebbe essere la direzione più logica. Però per tornare al Comitato, quello che il Comitato chiede è semplice, vogliamo che questa discussione venga portata in Consiglio Comunale, che venga spiegato esattamente per quale motivo non si può mettere mano allo stadio di San Siro e bisogna abbasserlo. Voglio, è molto semplice Claudio, il mondo sta andando verso un'ancora più netta divisione tra ricchi e poveri, quindi vogliono posti più cari per pochi eletti. Questo è quello che vogliono, quindi non gliene frega niente. Della musica non gliene è mai fregato niente, quindi del fatto che arriverà Bruce Prinzi che vuole tornare a San Siro o di altre cose non gli interessa niente. Ricordo che comunque fino al 2026, questo l'ha detto anche il sindaco, lo stadio rimane lì dov'è, perché ribadisco nel 2026 ci sarà l'inaugurazione delle Olimpiadi, quindi tutti i concerti che saranno previsti nel 2022, 23, 24, 25 si potranno fare, sempre perché i calendari e tante altre problematiche lo consentono. Vabbè, senti Claudio, quando avrai delle altre notizie, tanto te fai un casino, un giorno sì e tre no, quindi allora al limite un giorno… Una notizia personale, come vedi sono un po' sofferente. No, no, lo ha già detto Lodo la prima, sei sofferente perché… Cioè lo sanno tutti, lo sanno. Perché hai fatto il pirla, sei caduto in moto e ti sei rotto tre costole. Tre costole, no, che poi qualche anno fa me ne ero rotte altre sei sciando, quindi non so, come dire, tre più sei fa nove, vabbè, quante sono le costole? Non so quante sono le costole. Senti, un'ultima cosa, visto che si parla di Lodo e si parla di luci, ma quelle lucette lampeggianti alla tua destra è perché è già Natale per te? Sì, no, perché ti spiego, io sono un po' strano. In effetti queste lucette non le ho mai smontate, perché non ce ne voglia, e sono lì da Natale scorso. Dopodiché da qualche giorno ho deciso di riaccenderle, punto e basta. Va bene. Funziona come… Allora, buon Natale Claudio. Buon Natale, dai. Lo so, lo so. Buon Natale Claudio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Fantastico Claudio, ragazzi. Se non ci fosse, come si dice, bisognerebbe inventarlo. È una roba pazzesca. Claudio Trotta, ragazzi. Si. Ascari. Lascia. Lascia. Lo so. ami see. Lascia.